Ritorna dopo tanti anni la Vesta dell'Unità a Gela, si svolgerà la Villa Comunale Garibaldi. Claudia Caizza, le chiedo subito come sarà articolata la manifestazione. La manifestazione sarà articolata in quattro giornate, dal 20 al 23 di ottobre, e si svolge appunto, come lei ha detto, alla Villa Comunale, e sarà un programma ricco di dibattito politico, che verterà sui temi importanti, come quello dell'agricoltura e delle prospettive di sviluppo che questo settore può rappresentare per questo territorio, non solo per Gela, ma per tutta la provincia e per il territorio del nostro Golfo, perché appunto la Vesta dell'Unità è di tipo provinciale, non è soltanto a livello locale, ma è di spicco provinciale. Quindi si parlerà di agricoltura, si parlerà di scuola e di tutto il mondo scolastico, di pari opportunità e anche di giovani e di come il Partito Democratico intende aprire e rappresentare le prospettive di sviluppo anche attraverso i giovani democratici. Ma gli appuntamenti sono pomeridiani? Gli appuntamenti sono pomeridiani, dalle 18 fino a tardasera, perché oltre al dibattito politico tra l'altro vi sarà un intrattenimento di spettacolo come è tipico della Festa dell'Unità. Però al centro degli appuntamenti ci saranno gli incontri con personalità di spicco, sia a livello nazionale che regionale del Partito Democratico, che verranno a portare le novità normative in termini di sviluppo nei settori dell'agricoltura, ma anche della scuola e del mondo femminile che non mancheremo di cogliere. Ma sarà anche l'occasione per ritrovare voi l'unità all'interno del Partito Democratico, considerato che c'è un PD a Gela, dati oggettivi alla mano, spaccato? Noi alla Festa dell'Unità non vogliamo parlare di come ritrovare l'unità perché ci saranno altri incontri come già ce ne sono stati e ci lavoriamo sempre, quotidianamente. Ciò che conta è che il Partito Democratico, per chi è nel Partito Democratico, lavoreremo insieme per cogliere questa opportunità, perché la Festa dell'Unità rappresenta un'opportunità in termini di sviluppo economico e in termini di centralità di Gela come città del Golfo per rappresentare alla città le prospettive di sviluppo economico che noi vogliamo intraprendere. Ricordiamo che si parte da domani dalle 18. Dalle 18, giovedì pomeriggio, dalle 18 e fino a tutto domenica sera.